Un aneddoto particolare che si vuole raccontare per chi magari vuole avvicinarsi al mondo dell'aeronautica e delle frecce tricolore? L'aneddoto che voglio raccontare è legato proprio a un accadimento che è avvenuto oggi all'atterraggio di un signore che è venuto vicino a me e mi ha detto che non mi riconosci, però io vi devo dire grazie, grazie di cuore perché mi avete mandato un messaggio di saluto che è pervenuto attraverso una richiesta fatta con una mail al vostro ufficio delle pubbliche relazioni in un momento che per me era molto difficile dato che ero ricoverato in ospedale. Ecco, queste sono le situazioni che ti riempiono il cuore di gioia e ti fanno capire che al di là della passione per il volo al di là di quello che ci ha spinto a fare quello che facciamo, ecco dietro c'è tanto di più.